Marco, un intervista Perché un intervista? Non si può fare queste 4 gol all'anno Come al solito, teniamo i cali Pasquini, non dallo più Cioè, non è che la partita Furnisce al 32esimo e stiamo al 65esimo Finisce Al 65esimo, questo voglio dire Finisce al 65esimo Diciamo no, facciamo 4 gol all'anno E' c***o la parola, qui non è un Sì, è tutto buono, sembra la solta storia Ma non sta a chiudere Adesso parla in italiano